Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Leone, tendenze energetiche generali per la seconda parte di ottobre 2023. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici del Leone. L'imperatore è sempre una carta che parla di stabilità. Per qualcuno può far riferimento a un padre o ad una figura di riferimento o magari al senso di paternità che avete voi nei confronti dei vostri figli o semplicemente nei confronti di voi stessi. Con gli oracoli abbiamo carta numero 9, l'isola del tesoro. Quindi qui si va verso una sorta di concretezza economica. Vi ricordo che l'imperatore parla di potere materiale quindi si prospetta un periodo diciamo ricco e abbondante o almeno così pare da come abbiamo aperto la lettura. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale sono fatte per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, devo dire che la nuova stesa ha riscosso abbastanza successo, è piaciuta. Mi rendo conto che comunque è più generica rispetto all'altra. Diciamo che la differenza sostanziale è che con l'altra lettura guardavo qual era l'energia più importante e si approfondiva quel tipo di energia. Mentre qui si va a dare uno sguardo un po' più nel complesso, quindi si va a guardare ogni singolo settore della vita. Cioè più che altro riesco a darvi qualche informazione in più a livello sia spirituale che affettivo che lavorativo. Poi comunque continuerò a fare quelle dell'amore un po' più nello specifico. Allora, cominciamo dal centro con un otto di pentacoli, la carta del giudizio, un asso di bastoni, un cinque di bastoni al contrario, la regina di bastoni al contrario e la carta del mondo. Allora, l'otto di pentacoli al centro della lettura, ragazzi, è una carta che parla di quotidianità, è una carta che parla di lavoro e giustamente avendo qui anche l'imperatore sento che sarà una cosa molto presente nel prossimo periodo. C'è qualche cosa inerente, una quotidianità, una costanza, una perseveranza. Quando c'è l'imperatore, ripeto, è una persona che si è imposta delle regole da solo e si è costruito un impero da solo, quindi si è fatto da sé. E' un po' quando si dice che una persona si è creata la sua fortuna grazie alle sue doti di costanza, di qualità, insomma. Abbiamo anche la carta del giudizio e qui sento che potrebbe esserci una presa di consapevolezza da parte di qualcuno. La carta del giudizio è sempre una carta di risveglio spirituale, quindi diciamo che fa riferimento, sì, al vedere le cose da un'altra prospettiva. In molti casi fa riferimento anche a qualche cosa che ha a che fare con il passato, quindi potrebbe essere qualcosa che ritorna dal passato. O comunque, visto che abbiamo la carta dell'isola del tesoro, per qualcuno può far riferimento a una sorta di eredità, di lascito, di anche solo semplicemente un aiuto importante, sento. Ok, allora mi manca una carta, ecco, la cosa che trovo un po' scomoda di questa lettura, personalmente, in quanto lettrice, è che ho bisogno di avere tutte le carte stese, perché non leggo solo le singole carte, ma leggo anche le combinazioni. Quindi mi manca una carta. Va bene, allora, cominciamo a vedere che cosa riesco a dirvi. Da un punto di vista, diciamo, della crescita spirituale, vi posso dire che, eccola, abbiamo il mago al cosete di pentacoli, allora qua c'è il diavolo, sette di pentacoli e il mago al contrario. Allora, da un punto di vista spirituale, quello che vi posso dire è che c'è una sorta di blocco barra sblocco, perché qui abbiamo la carta del giudizio, che è una rinascita, il mondo, che è una carta di compimento, e sto guardando solo gli arcani maggiori in questo momento, e l'alchimista al contrario, che è un asso, un inizio, che in realtà è al contrario, e poi abbiamo la carta del diavolo, che in questo mazzo viene chiamato il signore oscuro. E quindi c'è qualche cosa che da un lato vorrebbe, potrebbe, dovrebbe sbloccarsi, però si fa fatica, c'è questa carta del diavolo che abbassa un po' l'energia a livello spirituale. Si può parlare di qualche tipo di dipendenza, qualche tipo di schiavitù, qualcosa che fa comunque fatica, diciamo, a ripartire se vogliamo, anche se avete comunque un naso di bastoni, quindi si tratta qui di prendere una decisione, una volta che voi avete preso consapevolezza di come è la situazione, prendere una decisione, fare un'azione, in modo da riuscire ad uscire da questa situazione un po' di stallo, diciamo così. E' come se ci fosse qualche cosa che vi condiziona. Per molte persone fa riferimento a quello che potrebbe essere proprio una stabilità lavorativa, perché comunque la carta dell'otto di pentacoli è al centro della lettura. Quindi sento che a livello, diciamo, un po' più astratto, ecco, ci sono dei condizionamenti mentali, probabilmente, inerente a un nuovo inizio, inerente a un nuovo percorso, inerente a una presa di consapevolezza che andrete ad avere con la carta del giudizio. Da un punto di vista, invece, delle relazioni, quindi amici, famiglia, coppia, partner, figli, insomma, un po' tutto, diciamo così. Sento, guardate, avete questa parte della lettura dove ci sono solo bastoni, qua abbiamo pentacoli e tutto il resto sono arcani maggiori. Quindi, in realtà, sento che sia una stesa, come vi posso dire, per quello che riguarda l'amore con delle basi piuttosto solide. Nel caso siate in coppia, vi dico che c'è una rinnovata passione, c'è qualche cosa che comunque cambia anche lì, perché abbiamo il mondo, abbiamo comunque questo mago al contrario, abbiamo il giudizio, c'è qualche tipo di dinamica qui che si viene così, come vi posso dire, a modificare. Ma è meglio, perché comunque abbiamo un 5 di bastoni al contrario, è come se cessassero i conflitti, le discussioni. Guardate, è un po' come se dicessero, fate l'amore e non fate la guerra. È bellissima questa, perché il 5 di bastoni in realtà non è una reale guerra, sono più dispute, bisticci o cose di poco conto, però comunque è un 5, è una carta di attrito. E l'asso di bastoni, proprio perché ricorda, insomma, ha un richiamo di tipo sessuale, allora il messaggio che ho sentito è stato un po' questo, fate l'amore e non fate la guerra. Nel caso siate single, ragazzi, potreste avere degli incontri interessanti, potrebbe essere una persona nel vostro giro di amicizie, o qualcuno che vi presenta un amico, non necessariamente conoscete già questa persona, vi dico che potrebbero esserci veramente i fuochi d'artificio. Per quello che riguarda, diciamo, la zona degli amici, piuttosto che chi vi sta intorno, ecco, le relazioni sociali, ecco, lì probabilmente c'è da mettere un pochettino di più i paletti, scusate, o comunque stabilire delle regole, perché c'è l'imperatore, e sento che da quel lato lì probabilmente non vi sentite nel vostro potere personale, è come se vi mancasse un qualche tipo di comprensione dal punto di vista degli amici, è come se ci fosse una sorta di piccola mancanza, ecco. E con la carta dell'imperatore è un po' come se vi dicesse, appunto, cercate il vostro tesoro, cercate quello che vi fa sentire al sicuro, state con chi vi fa stare bene, fondamentalmente. Se ci sono delle persone che, anche se magari non ne sono consapevoli, però si comportano in un determinato modo nei vostri confronti, che magari a voi è un po' urta, ecco, invece di magari creare discussione, semplicemente cercate di allontanarvi un momento da quella persona, ecco, perché sento che è una persona con la quale non è semplice discutere, nel senso che non lo fa perché sia malvagia, è semplicemente una persona che è un po', diciamo, perfettina. Ok, però niente di che, insomma, anche gli amici, i figli, io direi che dal punto di vista delle relazioni si va alla grande. Andiamo a vedere adesso il lavoro. Allora, giustamente la carta centrale è un bel lotto di pentacoli, qui sento che sarà un'energia molto presente in questo prossimo periodo, ma veramente sarà piena di soddisfazioni. Avete la carta del 9, l'isola del tesoro. Io credo che qui ci saranno cambiamenti positivi, prese di consapevolezza, idee nuove. Se siete indipendenti, qui arriveranno un sacco di idee da sviluppare, un sacco di idee che vi potranno portare una nuova stabilità. Abbiamo, è vero, il mago al contrario, quindi io credo che qui sia una questione di capire come gestire gli investimenti per riuscire ad ampliare il vostro raggio lavorativo. Se fosse, per esempio, anche solo un nuovo hobby, anche lì si tratta di capire, di fare una scala delle priorità fondamentalmente. Qualcuno sento che non ha ben chiaro da che parte poter andare o che tipo di, diciamo così, strumenti si hanno a proprio vantaggio. È un po' come non vederci bene con la carta dell'alchimista al contrario. È interessante perché in questo mazzo ha gli occhiali. Così. Per quello che riguarda la situazione delle persone che non hanno un lavoro, ragazzi, potrebbe tranquillamente arrivare a un lavoro con tutte queste belle carte. Abbiamo un asso di bastoni. Ecco, forse il consiglio è di muoversi, di fare del movimento, di mandare curriculum, di spargere la voce, di parlare. Qui potrebbe esservi utile spargere la voce tra gli amici, ma soprattutto tra qualcuno che conoscete da molto tempo, ok? Potrebbe essere che magari, non lo so, rivediate dopo un sacco di tempo una persona e vi mettete a parlare così, fategli sapere comunque che siete in cerca di lavoro e quali sono le vostre abilità, perché potrebbe tornarvi utile, potrebbe darvi degli spunti interessanti o anche semplicemente il nome di un'azienda alla quale dare il curriculum. Comunque c'è la carta del mondo, alla fine c'è un cambiamento, c'è un'espansione. Per qualcuno si potrebbe trattare di uno spostamento dovuto al lavoro, però insomma sento che perlomeno in questo prossimo periodo si va verso quello che è una stabilità economica. Che altro? L'economia L'economia vi sento prudenti, vi sento molto prudenti. Devo dire che non ci sono grossi movimenti, nel senso che siete un attimino lì, diciamo tra virgolette un po' titubanti nel capire come investire il denaro per fare altro denaro, però quasi diciamo in fase di valutazione. C'è questo, datemi un'altra carta per il diavolo, perché c'è questo diavolo che in effetti un po' appesantisce tutta la situazione. Abbiamo un 2 di spade, probabilmente vi trovate davanti a una scelta da dover fare. Qui abbiamo una carta con il giudizio che parla di vecchio e nuovo, qui abbiamo una carta con il mondo che parla di chiusura di ciclo e apertura di un altro ciclo, e qui abbiamo un mago al contrario che parla di un ciclo che non si vuole chiudere. Può essere che qualcuno qui per andare avanti debba lasciarsi indietro delle cose e magari non ha tanta voglia di cambiare l'ambiente di lavoro perché è per i colleghi, magari perché è vicino a casa, per un sacco di ragioni c'è questa sorta di titubanza a fare il salto. Tenete presente che c'è il diavolo che parla anche di una mente offuscata un po' dai pensieri negativi, dei pensieri contorti e qui abbiamo la figura che è bendata, quindi fate attenzione perché non avete, infatti avete poi la carta del giudizio, non avete proprio tutte le idee chiare in modo obiettivo, non avete una scaletta chiara, diciamo, dei valori, secondo me, c'è questo diavolo che un po' inquina, ecco, tutto lì, appesantisce l'energia, ma sento che comunque avete la carta del giudizio e la parte del mondo, sono due carte splendide, quindi si va comunque verso il cambiamento, verso il miglioramento, verso il compimento, l'isola del tesoro, che è una carta numero 9 che tra l'altro 9 è un numero di iniziazione, quindi andate bene così, andate forti insomma. Ok, allora, adesso voglio estrarre da... sono tre mazzetti, è un oracolo, e ogni mazzetto ha delle frasi scritte su, sulle quali meditare, che potrebbero o meno risuonarvi, comunque potete prenderle come uno spunto di riflessione. Allora, il mazzetto blu ci dice qualche cosa sulla situazione che state vivendo, ok, perché mi è difficile accettare qualcun altro, interessante, interessante perché sento che qui qualcuno nella vostra cerchia di amicizie potrebbe essere che è entrato di nuovo, perché mi è difficile lasciar andare, questo è un altro messaggio, pensiero su cui poter meditare, in effetti qui lasciare andare lo vedevamo perché avevamo diverse carte di fine e inizio ciclo. Andiamo a vedere con le carte gialle che fanno riferimento ad una potenziale credenza limitante che potreste avere, perché ho paura di disturbare, perché non chiedo, perché ho paura di disturbare, perché non mi muovo, perché ho paura di disturbare, perché non mi sento indipendente, perché ho paura di disturbare, perché non vado verso quello che è il mio, ok? Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Ok, andiamo a vedere un'altra frase da parte del mazzetto rosso che ci dice un'azione da poter fare o un pensiero appunto da contemplare. Mi assumo un rischio. Quindi qui si tratta di assumersi il rischio, di fare un po' anche un salto nel buio per qualcuno. Bene, cari amici del leone, Direi che è un periodo di cambiamenti, è un periodo di rinnovamento, è anche un periodo che mi parla di fine cicli, eh, fine cicli carmici, perché abbiamo il giudizio e il mondo. Sono due carte, sono le due carte finali, diciamo così, degli arcani maggiori, quindi hanno una valenza proprio di risveglio, di chiusura, ok? C'è solo questo diavolo, caro, che appesantisce un pochettino. E direi che qui si tratta di pulirvi a livello mentale, a livello di condizionamenti, a livello di costrizioni. Probabilmente qui qualcuno si sta sentendo un po' con le mani legate o crede di avere le mani legate o non riesce bene a vedere quale potrebbe essere un nuovo inizio concreto. Strano perché non ho il carro, io non credo che non sappiate dove andare, io credo che semplicemente siate già dentro qualche tipo di questione e che abbiate bisogno di fare delle azioni concrete per veramente vedere realizzato il mondo in quello che è la vostra carriera, lavoro, questione personale. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ok, allora, questa carta vi dice di fare dei passi in modo consapevole. Vi dice di considerare le azioni che fate e di guardare oltre. Mi viene in mente la partita a scacchi dove voi fate una mossa ma avete già calcolato quali possibili mosse può fare l'avversario. Ok, quindi per chi non giocasse a scacchi, normalmente per essere un buon giocatore nel momento in cui io devo muovere una pedina, calcolo già tutte le possibili mosse che potrebbe fare l'avversario per fare la mossa meno vantaggiosa per lui. Ed è un po' quello. Qui vi dice di considerare tutte le azioni. Lo sento un po' collegato col fante di spade questa carta. Il guardare dove si mettono i piedi, il controllare, lo stare attenti, fare un lavoro di fine, un lavoro costante, ok? Guardare anche le zone che in questo momento sono un po' scure, diciamo così. E poi abbiamo il guaritore sciamanico, diciamo così. Qui si tratta di fare fondamentalmente pulizia a livello energetico. Potete affidarvi ad uno sciamano, potete anche semplicemente, perché io quando vedo questa carta e vedo poi l'aquila, a me vengono in mente gli animali totem. Potreste magari già averne uno, sapere già qual è il vostro. Oppure, io forse ho fatto una lettura una volta con l'animale totem, devo riproporla. Oppure potete cercare una lettura, appunto, che parli di questi animali totem. Normalmente io lo associo anche agli animali di compagnia, perché sono veramente terapeutici, no? Anche e soprattutto i gatti, vabbè io sono di parte perché ho una gatta, però quando fanno le fusa, in qualche modo sono curativi. E qui avete bisogno proprio di alleggerire le vibrazioni. Qua lo vediamo, eh. Qui c'è qualche cosa che vi fa sentire inferiori, in colpa, legati, schiavi, vincolati, quello che è. Tenete presente che qui tiene due rane alla catena, ok? Quindi è un modo per esprimere qualche cosa che è in catena. Può anche essere una codipendenza, una codipendenza affettiva, una dipendenza fisica, una impossibilità a muoversi magari a livello economico. Può rappresentare qualche cosa di illegale. Ognuno di voi poi applichi questo diavolo alla propria realtà, insomma, ok? Anzi, fatemi sapere che cosa vuol dire per voi il diavolo, perché per ognuno poi ha una definizione diversa. Cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Se la lettura vi è piaciuta potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione, ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!